Le problematiche inerenti il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana nell'area metropolitana di Matera, comprendente oltre la città dei Sassi, i comuni di Bernalda, Ferrandina, Irsine e Fricarico, sono state affrontate dal tavolo tecnico promosso dall'assessore all'ambiente Rosa, al quale ha partecipato tra gli altri il consigliere di Forza Italia, Vincenzo Acito, per il quale vanno chiarite innanzitutto le competenze che spettano i singoli enti. Alla regione il ha compito di pianificare i flussi dei rifiuti di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento al fine di evitare una deregulation nella gestione delle discariche regionali. Nella fattispecie, fa sapere Acito, la regione ha disposto che il recapito finale dei rifiuti indifferenziati siano la piattaforma di Matera per il solo comune di Matera, Tricarico per i comuni di Tricarico, Irsine e Ferrandina e Colobraro per Bernalda. Ai comuni invece la facoltà di modificare il recapito con un'apportuna comunicazione alla regione nel caso in cui ci sia in disponibilità temporanea degli impianti da questi individuati.